buona giornata amici di fano tv oggi è martedì 15 novembre 2022 purtroppo la premonizione che avevamo avuto ieri nell'annunciarvi qualcosa di brutto si è verificata purtroppo è stata assassinata la ragazza che era scomparsa ne parleremo perché i giornali dedicano intere pagine oggi nella nostra rassegna stampa intanto diamo un'occhiata all'almanacco del giorno a partire dal santo e vediamo che oggi lo vediamo qui nella grafica si festeggia sant'alberto magno quando c'è questo aggettivo magno significa che un santo importante un santo che ha lasciato un segno per quanto riguarda il suo operato nella storia della chiesa sant'alberto magno visse nel tredicesimo secolo fu vescovo di ratisbona in carico che chiese al papa di così di rinunciare l'aveva rinunciato perché voleva ritirarsi in convento fu comunque un grande predicatore santo alberto magno e fu dichiarato santo da papa pio undicesimo nel 1931 diamo un'occhiata ora le previsioni del tempo vediamo che il tempo è cambiato rispetto alla giornata di ieri i cieli oggi saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio nubi associate a deboli piogge sono previsti due millimetri di pioggia sulla regione i venti sono moderati il sole sorge alle 7.02 tramonterà alle 16 e 43 e il mare è mosso questo per quanto riguarda la previsione del tempo diamo un'occhiata ora al territorio vediamo un'immagine di quello ecco è una bellissima immagine perché il cielo è sgombro di nubi in questo momento siamo vicini all'alba alle 7.02 dovrebbe essere già insolto il sole ma al momento non lo vediamo comunque l'orario è quello ed ora apriamo i giornali apriamo i giornali e le prime pagine sono molto molto significative purtroppo è brutto leggerle perché c'è una sensazione di mestizia il massacro di Anastasia eccola qua questa ragazza che era fuggita dall'Ucraina per fuggire per scampare dai gli orrori della guerra voleva venire in Italia era venuta in Italia con il suo figlioletto e con il marito anche di due anni aveva trovato una sistemazione nel nostro paese era una sistemazione sicura si era fatta ben volere da tutti e poi è scoppiato il dramma familiare il massacro di Anastasia giovane mamma ucraina in fuga dalla guerra uccisa a coltellate il suo cadavere è stato ritrovato nella notte di ieri dai carabinieri vicino alle colline di Gimarra nei pressi di Villa Giulia il cadavere era chiuso in un trolley ritrovato dai carabinieri appunto nei pressi di Villa Giulia a Fano l'ex arrestato a Bologna mentre fuggiva l'ex e il marito il dramma del bambino di due anni rimasto solo la mamma morta il padre in galera e sarà un futuro certo non bello per questo piccoletto vediamo anche la prima pagina del Corriere Adriatico via dall'Ucraina assassinata qui in Italia femminicidio a Fano in carcere il marito è egiziano Anastasia di 23 anni è stata uccisa con tre coltellate gli aveva appena detto che il matrimonio era finito al marito cadavere messo in un trolley e gettato in un campo espressioni lapidarie per evidenziare tutti i momenti che hanno caratterizzato questo delitto vediamo qui un'immagine dei carabinieri la macchina dei carabinieri di fronte alla casa abitata dalla ragazza venne il discorso aveva denunciato le violenze ai carabinieri era fuggita dalla guerra insieme al carnefice così in titola il Corriere Adriatico continuiamo a leggere quello che scrive il Carlino questa mattina apriamo il giornale vediamo appunto che le pagine sono piene di notizia Anastasia di 23 anni uccisa a coltellate chiusa nel trolley il marito preso a Bologna il trolley era coperto dai rami difficilmente lo si vedeva se il marito arrestato non avesse dato indicazioni precise era gettato in un campo vicino a Villa Giulia il relè di lusso sulle colline tra Fano e Pesaro lo hanno ritrovato i carabinieri dopo una notte di ricerche cadeva la pioggia in quella notte ma le ricerche sono continuate nonostante il maltempo ed era lì dentro il corpo di Anastasia Lashri la giovane mamma ucraina di 23 anni fuggita dall'orrore della guerra sul collo e l'addome i segni delle tre coltellate che le aveva inferto il marito accusato di aver sferrato quei fendenti e di averla chiusa a forza nel bagaglio a mano l'uomo è stato l'uomo tentava la fuga è stato arrestato infatti a Bologna nella stazione di Bologna è qui e poi è stato preso dai carabinieri domenica era tornata la ragazza aveva abbandonato il marito proprio per i maltrattamenti venerdì era tornata per prendere vestiti e altre cose sue ma c'era il marito ad attenderla e poi è scoppiata un'altra lite e poi qui abbiamo tante altre testimonianze abbiamo testimonianze dei datori del lavoro sia del marito che della ragazza abbiamo le testimonianze dei vicini di casa e tutti la ritraggono come una ragazza dolce molto molto stava sulle sue era una ragazza appartata che insomma non dava confidenze facili ma era molto molto aperta molto molto sensibile molto solare così la definiscono era felice di insegnare pianoforte ai bambini e in questa pagina abbiamo la testimonianza di Luca Ferretti che è il direttore della scuola di musica dove appunto la ragazza insegnava pianoforte era così per arrotendare lo stipendio di casa le faceva la cameriera nel ristorante alla Peppa qui invece abbiamo la testimonianza di Cavazzoni che era il datore di lavoro del marito il marito consegnava le paste dal laboratorio di pasticceria ai bar e a tutti coloro che ne facevano richiesta diceva sembrava un uomo buono era sempre puntuale nel lavoro nulla da recriminare per quanto riguarda il suo comportamento purtroppo poi quello che è avvenuto è stata una cosa diversa quel bambino rimasto senza madre e senza padre sembra che lo abbia preso in consegna Mirko Carloni e la sorella Martina Martina Carloni Martina Carloni è la comproprietaria del ristorante La Peppa dove appunto Anastasia lavorava in questo momento i due si stanno occupando di questo bambino un bambino di due anni ormai rimasto solo che è stato da prima preso in consegna nella caserma dei Carabinieri e durante la notte si sarebbe presentato Mirko Carloni insieme alla moglie lo hanno preso e portato via con loro il neoparlamentare finito improvvisamente dentro un incubo umano non conferma e non smentisce della cosa ovviamente è una decisione riservata quella che hanno preso per non creare clamore soprattutto attorno al bambino ci cerca di difenderlo in tutti i modi l'avevano aiutata al suo arrivo e lei voleva subito sdebitarsi questa ragazza non appena arrivata in Italia era arrivata poco dopo lo scoppio della guerra tant'è che il marito aveva fatto tutta la stagione nella pasticceria nel laboratorio di Cavazzoni e proprio per dileguarsi aveva preso il furgone che aveva in consegna per portare a destinazione le paste questo furgone ora è nei mani dei Carabinieri che lo tengono per completare le indagini e qui si parla dello sgomento dei vicini di casa Paola titolare dell'alimentare sembrava ogni volta che non volesse disturbare si parla della ragazza un'altra conoscente era così brava usciva sempre presto con il suo bambino non posso credere di quanto è avvenuto e poi una testimonianza di Antonietta Cerullo io i litigi non li ho mai sentiti con lei a volte c'era una signora forse la madre e dopo la scossa tremenda del terremoto di mercoledì tutti siamo usciti in strada lei invece no e lì comincia appunto il mistero a questo punto diamo un'occhiata invece a quello che descrive la pagina di Fano a Fano si parla dell'incontro che si è svolto ieri tra il sindaco Massimo Seri e il questore della provincia di Pesolo Ulbino Clemente in merito ai fatti che si sono verificati nella notte di sabato in Via Nolfi Sud nei pressi di un locale una rissa piuttosto forte che due bande di extra comunitari sembrano egiziani e albanesi si sono confrontate a suon di bastoni e anche forse a suon di lame perché sembra che si sia tirata fuori una katana Far West in centro storico adesso si studia la stretta il titolare dell'esercizio dice sono stanco di essere aditato molti di quei ragazzi non li avevo mai visti appena hanno cominciato a lanciare vasi e a confrontarsi ho messo a sicuro i clienti dentro il locale e appunto dal locale qualcuno con il suo telefonino ha ripreso tutta la rissa che si è verificata in strada in questa fotografia purtroppo ovviamente i vetri sono scuri e la fotografia non è molto chiara si vede un momento della rissa qui in questo punto vediamo un ragazzo che sta malmenando un altro ragazzo che è a terra mentre qui vediamo uno che ha in mano un bastone e sono appunto questi che si confrontano a suon di bastonate insomma una rissa veramente cruenta che cosa è accaduto durante l'incontro tra il sindaco e il questore ovviamente sono stati presi dei provvedimenti particolari non sono stati resi noti e comunque il questore ha detto risponderemo alle istanze dei residenti con i fatti a questo punto non servono più le parole occorre agire e agiremo come abbiamo fatto con la sicurezza ripristinata nel parco Miralfiore a Pesaro dove una moltitudine di spacciatori sono stati appunto resi inoffensivi far west in centro storico adesso si studia la ricetta tavolo tecnico di seri ma è bagare incontro con il questore intanto ci sono anche delle reazioni politiche e i giornali questa mattina riportano le reazioni del Movimento 5 Stelle sia della consigliera regionale Marta Ruggeri sia del gruppo consigliare del comune di Fano e poi interviene anche Stefano Pollegioni che l'ha detto alla sicurezza per l'Udc ebbene si reclama anche un rinforzo della polizia locale affinché si possa usufruire di una sorveglianza notturna sappiamo che al momento la polizia locale stacca a una certa ora di sera e quindi di notte il controllo è scoperto ovviamente di notte poi ci sono i carabinieri e c'è anche il commissariato ma il commissariato sappiamo che è difetta di organico e quindi la situazione è piuttosto precaria vedremo poi quali saranno i provvedimenti presi dal questore giriamo pagina sempre sul resto del carlino e vediamo che il conto alla rovescia per le strade delle barche è iniziato la strada delle barche questa grande opera che si attende da tanto tempo in realtà non sembra così grande come uno potrebbe immaginarla perché vediamo qui in questa fotografia la situazione è molto significativa ebbene si tratta di un pezzetto di strada non si tratta di una strada lunga chilometri e chilometri vedete in questo punto è il cavalcaferrovia di Viale Piceno cavalcaferrovia che sfocia nella pista dei go-kart e nel campo del bersaglio allora nel momento in cui il cavalcaferrovia sta per concludere la sua curva nei confronti di via Fratelli Zuccheri che poi conduce appunto a Baia Metauro vediamo che qui parte la strada delle barche attraversa questo tratto di terreno incolto che è quello del bersaglio attraversa poi parte della pista dei go-kart e sfocia in Viale Ruggeri quanto sarà? adesso non riesco a capire quanti metri non dico chilometri quanti metri sarà questa strada ma non è una gran cosa e poi non è nemmeno una strada tradizionale perché è una strada fatta in modo che non rovini e non contamini in modo particolare l'ambiente una strada che consenta alle barche che riescono a superare la salita del cavalcaferrovia di raggiungere Viale Ruggeri e quindi attraverso Viale Adriatico arrivare al porto il collaudo è previsto per il 2025 esultano i residenti della zona del bersaglio che attendevano appunto questa opera da tanto tanto tempo domenica si è svolto anche il test della glicemia si sono presentati in 300 hanno aderito a questo provvedimento di prevenzione almeno la metà è a rischio di diabete l'esito dell'iniziativa di prevenzione che si è svolta domenica al Fano Center il 10% aveva valori alterati abbiamo sottoposto ai controlli circa 300 persone ha spiegato il medico e abbiamo riscontrato in molti casi sovrappeso, accrescimento della circonferenza addominale cioè della pancia aumento della pressione arteriosa vita sedentaria ebbene sono queste le cose da evitare ci vuole moto occorre moderarsi con il cibo non bisogna ingrassare e bisogna avere uno stile di vita piuttosto severo circa la metà che si è sottoposta alle verifiche ha presentato fattori di rischio di sviluppare la malattia nei prossimi 10 anni mentre il 10% ha presentato valori glicemici alterati e altri indicatori che necessitano di immediati approfondimenti quindi è importante questa iniziativa di prevenzione e veniamo a Marotta ad azia nelle case i cittadini si organizzano dopo due furti in altrettanti appartamenti a Marotta in via Umbria in via Toscana si sta pensando di attivare il controllo del vicinato una sorta di filo diretto tra tutti coloro che abitano nella stessa zona per individuare persone sospette e quindi far cessare questa azione di malintenzionati nei confronti degli appartamenti due furti in un appartamento e sui social c'è chi lancia l'idea di istituire il controllo di vicinato addio a Giancarlo Piccioli era altruista per vocazione ieri si è svolto l'ultimo saluto all'ex consigliere comunale storico direttore di Ascom aveva 72 anni a San Costanzo ragazzi guardatevi dalla droga psicologi e polizia in cattedra e il ministero finanzia un progetto che coinvolge gli studenti della secondaria di primo grado fermi anche questo è un grande provvedimento un utile provvedimento di prevenzione nei confronti appunto del tunnel della droga perché poi se uno c'entra dentro è difficile uscirne ad Urbino si parla ancora dell'istituto Capellini che promuove una resistenza da parte del comune il tiramolla tra l'amministrazione comunale e l'archivio storico sembra non avere mai fine ora Torrico e Nasoni invitano alla mobilitazione pensate corriva l'anno del 2019 l'epoca pre-lockdown e tra comune e istituto Capellini la tensione per la gestione dei locali appunto di questo istituto di via Oddi era al culmine il comune chiedeva da una parte di tornare in possesso dei locali e non friva altri in centro al Palazzo Nuovo all'istituto mentre l'istituto rispondeva che non aveva alcuna intenzione di lasciare la sede ebbene seguirono le tensioni che perdurano ancora oggi vediamo un altro articolo Moda Ideal Blue entra nel gruppo Florence l'azienda Udurantina quindi siamo ad Urbania con 150 dipendenti e un fattorato da 30 milioni di euro si lega a un pool di aziende che opera nel settore del lusso e questa è una presenza economica importante nel nostro entroterra perché non solo dà lavoro appunto a tante persone ma costituisce anche un presidio economico di importante che bisogna preservare vediamo ora quello che il giornale dice per quanto riguarda Pesaro dove si evidenzia il disagio di tante persone che debbono lasciare la propria abitazione per le lesioni che ha avuto la ciminiera del laboratorio Mengaroni o casa sopra la fabbrica danno doppio dice uno ciminiera pericolante il grido degli sfollati non si sa quando potranno tornare a casa è ovviamente un provvedimento cautelativo quello che è stato assunto dal sindaco Matteo Ricci che ha ordinato lo sgombero delle abitazioni non si sa quando potranno tornare a casa e ovviamente abbandonare il proprio appartamento la propria abitazione non si sa per quanto è un disagio non trascurabile da oggi partiremo con la parziale rimozione e la messa in sicurezza questo ha detto l'assessore Belloni e si confida che questo avvenga veramente vediamo ancora altre notizie su Pesaro si avvicina il sogno del centro per l'autismo l'assemblea comunale approva la variante al piano regolatore relativa all'area ASU di via Batielli primo passo per la realizzazione della nuova struttura a Fano esiste già un qualcosa per quanto riguarda l'autismo abbiamo un reparto all'ospedale Santa Croce che è in prima linea per la cura di questa malattia di questa patologia anche per la riabilitazione soprattutto a Pesaro si fa altrettanto poi abbiamo avuto un consiglio monotematico sul parco la richiesta di alcuni cittadini presenti in aula ieri il consiglio ha avuto anche una platea di uditori particolarmente interessata e sono stati molto molto interessati i cittadini al salvataggio di sei querce che dovevano essere abbattute dalla società autostrade tra comune c'è stato un dibattito tra gli ambientalisti e appunto chi voleva abbattere le querce sembra che queste ormai siano state salvate meno una che deve essere abbattuta perché insomma deve essere rimossa non c'è possibilità di scampo comunque cinque querce rimarranno e qui abbiamo un articolo così curioso ogni tanto ne capitano ebbene c'era un cittadino che aveva davanti casa tanti animali ebbene ovviamente la cosa non è piaciuta ai vicini di casa i quali si sono sentiti invasi da questi animali e quindi tutto è finito le liti sono state le liti e poi tutto è finito a processo accusato di moleste un proprietario di alpaca cavalli cani e galline i confinanti sono esasperati ma il legale dell'uomo insiste è innocente ebbene alpaca cavalli cani galline e il loro giardino si sarebbe trasformato veramente in un caravan serraglio una sorta di arca di noè ebbene all'inizio ci sono state delle così insomma delle richieste cerchiamo di contenere poi delle proteste e poi visto che non c'è stato verso si è finiti in tribunale ed ora vedremo che cosa accadrà dalla parte del giudice insulti alle dipendenti finisce in aula per mobbing si tratta di Luigi Di Guido un 49enne originario di Napoli ma residente a Pesaro che è finito sotto processo per alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto i dipendenti della sua azienda un'azienda di sanificazione sembra che ci siano state degli atteggiamenti particolarmente autoritari di questa persona nei confronti di tre dipendenti si parla di maltrattamenti si tratta anche di parole grosse che sarebbero volate interpretate anche come offese e quindi c'è anche questo aspetto questa vicenda che finisce in tribunale ora vediamo il corriere adriatico riprendendo le notizie che riguardano il femminicidio che si è svolto appunto qui a Fano e quando si tratta di un delitto insomma tutti noi ne siamo coinvolti Fano generalmente è una città tranquilla queste cose non accadono e non dovrebbero mai accadere ma ogni tanto magari una volta ogni dieci ogni dieci anni i giornalisti sono costretti anche a confrontarsi con queste notizie mamma uccisa con tre coltellate il marito fermato per omicidio Anastasia 23 anni ucraina trovata morta nella notte a Belgato abbandonata in un campo dentro un trolley e in questa tabella abbiamo un po' tutte le fasi di quanto è avvenuto l'11 novembre Anastasia denuncia ai carabinieri il marito per maltrattamenti in famiglia e si rifugia con il figlio in casa di un amico e collega di lavoro il 13 novembre alle ore 9 la 23enne lascia il figlio in consegna al collega di lavoro per andare a prendere i suoi oggetti personali nella casa che era condivisa con il marito è una casa del Lido in Viale Trieste facendo perdere però le sue tracce in tarda mattinata il collega di lavoro che ha avuto in consegna il bambino denuncia ai carabinieri la scomparsa della donna scattano dunque le ampie ricerche vengono coinvolti i carabinieri i vigili del fuoco la protezione civile il commissariato insomma c'è tutto un pool di forze che ricerca la donna e vengono impiegati anche i cani molecolari alle ore 22 le ricerche infruttuose vengono sospese ma alle ore 23 il marito egiziano viene fermato alla stazione dei treni di Bologna dove verosimilmente cercava di fuggire verso l'estero alle ore 4 della notte il cadavere della donna su indicazione del marito che è stato messo alle strette dagli inquirenti viene rinvenuto dentro un trolley abbandonato in un campo di Belgatto mentre in via del fiume vengono recuperati la borsa e gli indumenti della donna poi anche un coltello da cucina e un taglierino in mattinata la procura della Repubblica di Peso l'ha sottoposto Amrallah Alashri questo è il nome dell'uomo affermo per omicidio volontario una sequenza allucinante veramente non sappiamo che cosa è scaturito dentro l'animo dentro la testa dell'uomo forse la gelosia forse una cultura così della supremazia del marito dell'uomo nei confronti della donna che ha determinato quanto accaduto e poi vediamo appunto le testimonianze abbiamo le testimonianze della ristoratrice abbiamo le vicine di casa insomma tutte le testimonianze che poi si sono che hanno ritratto la donna e quanto è avvenuto vediamo anche la pagina di Fano siamo ormai in conclusione anche qui si parla della rissa che si è che si è verificata in via nolfi rissa pugno duro del questore seguiranno misure adeguate e ora punizioni ma anche educazione a scuola è il risvolto politico della vicenda si attendono appunto gli atti delle forze di polizia raid ai tabacchi gli arrestati sono liberi ma solo di giorno a Fano dopo la convalida i due hanno l'obbligo della firma e non possono uscire la sera tornano in libertà i due stranieri originari dell'Europa dell'Est accusati di furto al bar barbatrucco di Bellocchi di Fano un colpo di oltre 10.000 euro ebbene questa era l'ultima notizia avete visto quanta cronaca oggi i giornali riportano ebbene cerchiamo di preservare la nostra tranquillità perché ne vale della nostra vivibilità questo per il momento è tutto vi do appuntamento a domani alle 7 per le notizie del giorno e questa sera alle ore 20.30 a TG di Fano di Fano TV occhio alla notizia per le notizie appunto del giorno di oggi e questo è tutto a risentirci a TG 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 a TG